Chirurgia plastica ed esenzione IVA, seconda parte, inquadramento del contesto giuridico di riferimento. L'articolo 10 del DPR 633 del 1972 sottrae all'IVA genericamente le prestazioni sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. A seguito di una nota sentenza della Corte di Giustizia del 2003, l'amministrazione finanziaria, direzione generale normativa e contenzioso, emana la circolare numero 4E del 2005, con il dichiarato fine di fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello Stato. In tale sede l'amministrazione finanziaria affronta diversi temi e, in particolare, rileva che secondo la Corte di Giustizia l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute. Dedica uno specifico paragrafo alle prestazioni di chirurgia estetica, con particolare attenzione alle prestazioni mediche di chirurgia estetica connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione. Conclude che le direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Tali affermazioni conducono la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a prendere posizione sul trattamento IVA delle prestazioni di medicina estetica connesse al benessere psicofisico del soggetto e, quindi, alla tutela della persona, con effetto di indirizzo nei confronti dei chirurghi estetici in Italia. La circolare è tuttora in vigore e non è mai stata revocata. Al contrario, è stata richiamata in molteplici risposte a interpello, anche recenti, e determina ancora oggi un indirizzo per tutti gli operatori del settore. La situazione che si è venuta a creare a seguito delle richieste dell'Agenzia delle Entrate di applicare l'IVA a prestazioni curative pone un serio problema di tutela dell'affidamento maturato dal contribuente, anche in relazione al rispetto del principio di certezza del diritto. A breve pubblicheremo una serie di ulteriori contributi di approfondimento su questi temi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità medica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.